Buongiorno per questa tappa 20 del Feltre Croce Down, quindi oggi, sì, certo, oggi Tiburon siamo al tappone dono mitico ragazzi, 5600 metri di dislivello, una tappa di quelle massacrante. Primo passo la cima a campo, 1425 metri, secondo passo passo a Mange salirà a 2047 metri, terzo passo il passo a Rolle a 1980 metri, quarto passo Croce Down a 1515 e si fina su Croce Down e Monte Avena a 1225. Si comincia subito con la cima a campo, sono 5-6 km, diciamo per scaldare la gamba, ma comunque si faranno sentire anche questi perché sono già subito importanti. Dopo avremo il Mange con 10 nuovi chilometri difficilissimi, un passo larghissimo, lunghissimo e molto impegnativo. Posso dire una cosa? Il giro si decide a Feltre. Certo, come dice la nostra copertina, e oltretutto c'è questa salita del Mange, questa è proprio una salita del Mange, ti devo dire, perché è tutta e su dritta così, al 15-16%, non molla mai, non si respira e lì sarà una battaglia, ci sarà il veglione del tritello. Paola lì deve avere intorno i suoi gregari, è fondamentale. Guardate che roba dritta, ma dobbiamo per la cronaca segnalare per l'onestà che per problemi tecnici e logistici di incrocio con il vero Giro d'Italia, la tappa è per quello che deve avere un punto d'appoggio sul passorolle, terminerà sul passorolle. Sì, comunque solo... Per la Paola sì, perché stanno mettendo le transenne già dall'altro lato per la corso ufficiale, oggi ci sono un incrocio proprio di percorso, quindi il giro ufficiale sale di là, mentre noi saliamo di qua e cominceranno a transennare. Il giro ufficiale arriverebbe a San Martino di Castrozza e noi lo incroceremo. Comunque le tre salite dure le facciamo e... Sarà un'etapa comunque dolomitica e la Paoletta ci impressionerà anche oggi. Adesso ci saranno i bambini della scuola ad aspettarla. Esatto, 400 bambini, 400 e poi insieme al pedale Feltrino, organizzatore della Sportful, Paola prenderà il via con un countdown fatto da tutti e 400 ragazzi che daranno il via alla tappa, al tappone. Come è successo a Cuneo, è stata una buona partenza spettacolare, ricordare, tutti i bambini in rollo, tutte le magliette. Esatto. Molto bene, quindi Live from the Bar di Paola, un saluto, stay tuned sui nostri canali. Ciao! Ciao! Stay tuned! Come si dice stay tuned? In spagnolo, com'è stay tuned? State conectado, state informado, state... State seguite, seguiendo. Subscribe! Ciao! Attenzione al veglione del Triteli. Eh, oggi sarà battaglia, dobbiamo sfagionare di brutto. Sì, attenzione al veglione del Triteli. Ci sono dei nostri canali, da qui si è stato il triteli. Ci sono tutti i nostri canali, da qui si è stato il triteli. Oh, la storia di vista! Oh! 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 Paola che sta studiando il percorso dove attaccare, attenzione alle fagianotti, agli attacchi del fagiano. Pedale e Feltrino ragazzi, grande gruppo, buoni siete! Abbiamo Jaime che si appresta a fare un tocco tecnico, come la catena pulita! E qui siamo a Tieve dove inizia il passo Mangen, la cima più dura della tappa 20 di questo Giro Italia 2019. Ed ecco qua il gruppo della ciclisti della Sportful che accompagnano Paola e questa tappa. Forza Mangen! Forza ragazzi! Buongiorno! Abbiamo iniziato la salita per il Mangen! Buongiorno! 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 Ero holeE Grazie a tutti. Eccoci il Passo Mango e guardate che spettacolo, strada magnifica, come andiamo in Monza Piato. Con il tiburon, fedele compagniero. Ed ecco lo spettacolo del Passo Mangen. Una salita di 20 km con pendenze fino al 16% e adesso siamo ai 2 km dallo scollinamento. Venite che c'è la Paola ragazzi. Forza forza qua ci prepariamo, capello d'alpino. La mangiare ce n'è? Hai capito come la mangiona? E il panino? Grazie ragazzi. Ragazzi qua sul Mangen si prepara per domani ma intanto ci portiamo avanti con i lavori. La sopravvivenza in tutto. Certo certo, lo stomaco non deve mai patire, anche gli alpini. Viva gli alpini. Grazie. E via che si fa festa, guardate che spettacolo il Mangen qua dietro. Wow che bello. Questa è una cosa pazzesca. C'è anche la cascatella qua che viene fuori, guarda. Mangen, guardate che bel gruppo ragazzi. Avviva! Viva il Mangen, siamo pronti. Viva Paola! Viva Paola! Viva Paola! Grazie! Grazie! Dai, 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 tieni duro! Ed eccoci allo scollinamento del Mangen, brava Paola! Super Paola! Ed eccolo qua! Conquistato anche il Mangen ragazzi! 20 km di salita durissima! E siamo arrivati! In vetta anche al Mangen! Super Paola! Complimenti! Quando si scollina il Mangen ragazzi lo spettacolo che ci si presenta anche da questa parte è pazzesco. E l'idea che è terribile, scusa. Laggiù è terribile, si vede tutte le piante... Mezza montagna distrutte. Distrutte laggiù dall'altro lato. Mezza montagna, pazzesco. Ci sono montato addosso. Vai, vai! Vado a tornare successiva e ti riprendo un' curva. Allora! 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 Ciao, sono in Val di Tieno, abbiamo finito di fare il passo Mangen in bicicletta e ora si sta andando a fare il passo Rolli. Grazie per la visione